E ovviamente in Argentina c'è questa rivalità tra Messi e Cristiano e ovviamente io da bambino sempre ero, sono stato dalla parte di Messi ovviamente e una volta lui non lo so perché è venuto in fondo e si è seduto accanto a me, abbiamo iniziato a parlare tante cose della vita, non soltanto il calcio, è un momento che siamo fermati e io gli ho detto ma ti devo dire una cosa, io gli ho detto? Sì, sì, lui mi ha guardato e mi ha detto sì, io quando ero bambino preferivo Messi, no praticamente ti odiavo, gli ho detto e lì gli ho raccontato questa storia che ovviamente in Argentina era un confronto, cioè o era uno o era l'altro, non potevano essere tutti e due e lui è iniziato a ridere, ha detto ma io un po' sapevo questa storia, non che la tua però che in Argentina era un po' così, però dopo siamo fatti due risate.